salve a tutti dar papi abbiamo aperto e illegalmente un bar per pelosetti perché loro giustamente non possono vediamo un po chi è il primo cliente chi è il primo cliente andiamo vediamo un po chi è il primo cliente vediamo se si avvicina qualcuno che ha capito che questo è il bar dei ecco il primo cliente la nostra bella buongiorno signora che cosa desidera che cosa desidera un po di che di di carne già te la sei mangiata la nostra bella guardate che è sempre la prima ad arrivare il nostro bar e qui sotto ci stanno i piccoletti che mi stanno a mangiare praticamente tutte le scarpe quindi volevo avvisare anche in questa situazione che le persone che hanno adottato sia lupo che leone dovranno provvedere al versamento della somma totale per ripagarmi praticamente la tuta che se rotta basta o leone leone e guarda quell'altro e quest'altro che gli fa da compare non si possono fastidio leone devi lasciare leone devi lasciare davvero guarda e comunque io volevo mettere a posto un pochettino invece niente se proprio fa niente leone lo dico a tu madre bella bella vieni a parlare un po con tuo figlio vieni qua vieni qua di guarda che si arrabbia pure tuo figlio è feroce tuo figlio lascia qua beh leone mi devi lasciare libero ma guardate come stringa è una cosa allucinante lascia sta la niente e bella e mamma ma io ti pochettino vabbè ragazzi io cerco di sbrogliarmi un attimo da leone che qui la situazione è abbastanza complicata e ci rivedremo tra un po se sarò libero quell'altro si è presi i lacci o ma che dovemmo fa ma che abbiamo deciso guardate come stiamo tutto questo visto dar papi per l'italia a quattro zampe il ringhio di tanti pelosetti del mondo